Quarta lezione, sequenza fashion a riccia, è composta da quattro passi, il primo è mandrione twist, movimento rotatorio delle braccia e gambe in modalità twist, espressione in crazy face. Secondo passo, looking nebi, mano destra sulla fronte con intenzione scout style e braccio sinistro che indica con movimento semicircolare, ripetere sequenza alternando le braccia, movimento dell'anca in shake erotic style. Terzo passo, deep axle rows, mani una nell'altra a simulare la presa dell'asta del microfono, movimento sinuoso delle spalle con scarico sull'anca in modalità sex rock. Quarto passo, rocca di papa jungle, movimento delle gambe in hard smash potato, movimento delle braccia in guidonia heavy propeller, espressione in funny gland. Ed ora, vediamo di seguito la sequenza fashion a riccia. Grazie a tutti!